Partiti! All'inizio della curva è sempre in vantaggio Marcheid, davanti a Dangerous Love, Taxi Door, San Vicenzo, Mister Romaldo, Star of Gallese, Little Power, Mamat, Pagliarito. E Shabba Beck, poco prima dell'ingresso, addirittura in vantaggio Marcheid, davanti a Taxi Door, Dangerous Love e Mister Romaldo. I cavalli entrano in dirittura, con Marcheid in vantaggio lungo la corda, davanti a Taxi Door, Mister Romaldo, Mamat, Star of Gallese, Dangerous Love. E' sempre in vantaggio Marcheid, davanti a Taxi Door, Mister Romaldo, Mamat a centropista, seguono Dangerous Love, più staccati gli altri. E' in vantaggio Marcheid, attaccato all'esterno da Mamat, segue Mister Romaldo e Taxi Door, passa Mamat davanti a Marcheid, Mister Romaldo e Taxi Door. Il problema non era individuare i quattro che potevano costituire il marcatore, era trovare l'ordine d'arrivo preciso. Infatti alla fine ha vinto Mamat davanti a Marcheid, poi è arrivato Mister Romaldo e poi Taxi Door. I quattro erano loro, ma in che ordine ce l'ha detto soltanto la pista, che ha detto che Giorgio, eh sì, Giorgio Perovic, implacabile, è implacabile, il nostro pantino. In gran forma. Ma comunque penso che ormai Antonio Pugli e Marcello Belli possano essere elevati a rango. Di consulenti, consulenti opinionisti, è vero. Sono sempre... Beh, è un'autorevole ormai.